Vsolog! Allora, prima di iniziare con il video di oggi, voglio ricordarvi che sui siti Pumpling, che trovate linkato, in scritto qui sotto, ci sono gli sconti, quindi con le magliette a partire da 5,99€, poi ci sono le felpe a 16,99€, sconti sui boxer, eccetera, e ci sono anche le nuove magliette del Fanta Sanremo, queste però sono a prezzo pieno, quindi sui 14,90€, come quella che indosso, che ditemi se non è di pregio, e ce ne sono un altro paio che vi metto in sovrimpressione, trovate in descrizione sia il link a queste singole magliette del Fanta Sanremo, sia il link al catalogo con tutti gli sconti, se volete invece dare un'occhiata alla Meritway scontata, se a vostro acquisto di uno qualunque di questi prodotti aggiungete un paio di calze a vostra scelta dal catalogo e usate il codice VILASZLO, le calze non le pagate, quindi se vi interessa sapete cosa fare, ora però, bando alle cianci, iniziamo subito con il video di oggi, sigla! Allora, finalmente, dopo settimane dalla sua uscita, posso parlare di una serie, di cui non ho parlato prima, per il semplice fatto che avevo iniziato a guardarla, ma mi rompevo così tanto le palle che non riuscivo a continuarla, a un certo punto mi sono messo d'impegno, ho superato il tedio e sono riuscito a finirla nel giro di qualche giorno ed è stata pura e semplice agonia, credetemi. Mi riferisco, naturalmente, a La Casa di Carta Berlino, lo spin-off della Casa di Carta sul personaggio, per l'appunto, di Andrés Defonoiosa, meglio conosciuto come Berlino, interpretato da Pedro Alonso, il personaggio più apprezzato della Casa di Carta, che avevano cercato disperatamente di inserire in the flashback, a partire dalla terza parte, perché, come sapete, La Casa di Carta non è una serie originale Netflix, è una serie spagnola che è andata in onda sul canale spagnolo Antena 3 e che Netflix aveva acquistato, poi aveva avuto un successo tale, che hanno acquistato i diritti ed è diventata una originale Netflix, hanno realizzato poi le parti successive, che sono veramente terribili per quanto mi riguarda, ma vabbè, e il loro rammarico era appunto che nelle prime due parti, su cui non avevano avuto controllo creativo perché non era roba loro, avessero ucciso Berlino, per cui lo hanno fatto tornare ossessivamente con i flashback e adesso fanno questa serie che è un prequel, ambientata prima della Casa di Carta, ma con La Casa di Carta ha in comune il fatto di essere una fistole anale. Io vi giuro, per me, questo è il sottopalla del buon gusto, non è una serie. Io, guardandola, sono rimasto veramente allibito perché pensavo non si potesse fare di peggio rispetto alla Casa di Carta e invece ci sono riusciti. Ci sono riusciti e io, francamente, non mi spiego il perché. Inizio a fare spoiler fin da subito perché non sarà la classica recensione incazzata con le gag e quant'altro, ma sono parecchio furibondo, questo ve lo posso dire dal momento che io continuo a vedere un apprezzamento smodato e ingiustificato per questa serie e, lo dico subito, io non sono di quelli che dicono se una cosa ti piace, se hai una testa di cazzo, assolutamente no. Ognuno ha il sacrosanto diritto di farsi piacere quello che vuole e di poterlo dire. Quello che mi disturba è il sentire parlare della serie come se fosse qualcosa di eccezionale, cioè ci sta che ti piaccia, ma se poi vieni a dirmi che è una delle serie migliori uscite negli ultimi tempi, magari sotto un posto in cui consiglio qualcosa che è obiettivamente migliore, allora gli dico, ok, ti può essere piaciuto di più, ci sta, ma che tu mi venga a dire questa è una delle serie migliori negli ultimi tempi, la regia non la batte nessuno, ecco, qui si scende già su cose che sono un filino meno opinabili. Perché se mi si viene a dire che la regia di questa serie è migliore che so di quella dello scontro di Netflix, dico no, cioè io ho beccato persone che mi dicevano, eh, però non capisco perché non hanno candidato Berlino oppure negli altri anni la casa di carta e danno premi a serie come Succession, sarà che Succession è una serie che prende Berlino e la casa di carta e se la incula con la sabbia, sarà quello, può essere, comunque sia, io capisco il gusto personale, però se si va verso il voler far passare Berlino come una delle più belle serie uscite negli ultimi anni, ci sto già di meno, ecco, questo magari è un attimino oltre il semplice gusto personale, per cui io sono rimasto abbastanza interdetto perché innanzitutto io capisco che Berlino è il personaggio più carismatico di questa macchina della merda che è la casa di carta, che poi le prime due parti potevano anche starci perché erano quelle, era una serie autoconclusiva, era un mezzo plagio di Inside Man, vabbè, sono quelle dopo che erano forzatissime perché per l'appunto era una miniserie conclusa che hanno voluto riaprire visto che aveva avuto un successo inaspettato su Netflix e quelle erano veramente insulse, già le prime due non erano granché, però si potevano già guardare, quelle successive sono veramente orripilanti e questo, la casa di carta Berlino, ha grosso modo dei difetti simili ma riesce anche a peggiorare, perché? E quindi vado di spoiler, siete avvisati. Innanzitutto, dicevo, Berlino è un personaggio che è sicuramente affascinante, ma vi ricordo che nella casa di carta, almeno nelle prime due stagioni, nelle prime due parti, era uno stupratore, non era un personaggio positivo, sicuramente poteva risultare un personaggio intrigante per il modo in cui si comportava, eccetera, ma non era un personaggio positivo, cioè è come quando ti piace magari un personaggio come il Joker, sì, ti piace come cattivo, però non è un modello da seguire, non è un modello positivo. In questa serie te lo fanno passare come un grande romantico, no? No, io non ci sto molto in questo, capisco che la serie si chiama Berlino e che lui è il protagonista, però c'è un problema alla base, se tu cerchi di farmelo passare come un grande eroe, un post romantico, non va bene questa cosa per quanto mi riguarda, e devono fare questo colpo che per me non è per nulla interessante, devono rubare in questa casa d'aste e c'è una squadra composta da Berlino, che peraltro si chiama Berlino già qui ora, nella casa di carta tutti si sceglievano dei nomi di città, Berlino, Rio, Denver, Tokyo, Nairobi, Helsinki, che più ne metta, benissimo. Non ci dicevano che lui si era scelto il nome Berlino specificamente per il colpo, ma era ovvio che fosse per quello. Non vediamo una scena di lui che fa ho scelto questo nome per il colpo appositamente, ma era ovvio che fosse per quello. Cioè, quando vediamo il flashback di lui, il fratello e altri, lo chiamano sempre Andres, che è il suo vero nome, non lo chiamano Berlino. Anche nei flashback che vediamo nella casa di carta, prima del colpo, il nome che usavano non era Berlino. Perché in questa serie, che è ambientata parecchio prima, rispetto alla casa di carta, lui si chiama già Berlino? Cioè, io capisco che è un prodotto fatto per il pubblico mainstream e che quindi dovevano mettere in chiaro che lui è Berlino e quant'altro. Va bene, siamo d'accordo, ma così è stupido. È stupidissimo, perché tra l'altro il creatore è sempre Alex Pigna, quello della casa di carta, quindi è sempre in mano alle stesse persone. Cioè, a me sono queste cose che fanno girare le palle, no? Quando pensano che il pubblico è scemo e quindi dobbiamo chiamarlo Berlino perché la serie si chiama Berlino e lui è Berlino della casa di carta. Ho capito! Ma perché questo si dovrebbe chiamare Berlino già da prima? Palesemente non si chiamava Berlino prima! Nessuno lo conosceva col nome Berlino! Cazzo! Ma va bene, questa è una piccolezza. Quindi abbiamo Berlino, poi abbiamo una serie di personaggi che ho imparato a detestare per davvero, ho proprio imparato a nutrire un odio atavico per tutti loro, esattamente come nella casa di carta, ma forse qua anche di più, avrei voluto vederli sterminare tutti, già dopo dieci minuti, nella prima puntata. Abbiamo però appunto Damian, che è questo amico, sembra di vecchia data, di Berlino, poi abbiamo Keila, che è questa hacker, che è una... questo è proprio lo stereotipo all'americana, anche se è la serie spagnola, della ragazza che per far sembrare che sia brutta le mettono un taglio di capelli non alla moda e un paio d'occhiali. Et voilà! Il classico cesso da film americano. È questo. Lo vedi fin da subito, che in realtà questa è una strappona allucinante, ma no. Bisogna far finta che non sia bellissima, devi farla un po' timida, a me queste cose fanno girare balle, sono stereotipi anni 90, che magari nel 2023-2024, perché la serie comunque è uscita il 2023, si potrebbero evitare, ma magari sono io che esagero, non lo so. Poi abbiamo Bruce, che è il figaccione di turno, abbiamo Cameron, che è questa tizia che Berlino ha messo a fare la rapina, e fin dai primi due minuti, quando ti fanno vedere loro che pianificano il colpo, ci dicono che lei è stata in un istituto di genere mentale. Già il fatto che in apertura tu mi fai vedere che uno dei membri della banda è una persona che probabilmente ha dei grossi problemi mentali, mi fa pensare, beh, questo colpo andrà benissimo. Cioè, cosa può andare storto? Hai solo messo una persona che evidentemente è squilibrata per fare un colpo, una rapina, dove ci vuole una precisione chirurgica. Fantastico. Poi c'è questo figlioccio di Berlino che si chiama Roy, e fin da subito capisci che Roy e Cameron se piacciono, no? Vorrebbe, c'è un po' di friccicore sotto la superficie. Fin dai primi momenti si capisce con una certa precisione quanto le cose stiano per andare a puttane per i motivi più stupidi. Perché quando mi si chiede ma Berlino di cosa parla, la mia risposta è di fica, di peni, di cazzi, di sesso. È una serie che vorrebbe essere una serie romantica d'amore, che però usa il pretesto della rapina per raccontare questi rapporti amorosi. ci fosse uno di questi rapporti che non sia sbilanciato o assurdo. Io vi giuro. Cioè, io capisco che vuoi fare una cosa un po' romantica, quello che vuoi, ma non è così che si fa, perché qui non si tratta di romanticismo, si tratta di una serie di personaggi che vanno a comporre una banda di rapinatori il cui unico scopo nella vita è trombare il prossimo. Veramente. Cioè, tutti pensano solo a ficcare in questa serie di merda. Tralasciamo il lato tecnico che per me è blandissimo, pochissime scene action di rilievo, dirette anche con una certa pigrizia. Allora, non è che abbia un lato tecnico orribile, è la classica serie Netflix. Fotografia standard con questa patinatura che uniforma tutto. Cioè, Netflix ha questa cosa che anche se produce serie che sono europee o comunque non occidentali, le uniforma quelle occidentali, americane, più che altro, in modo da renderle tutte simili tra loro. Quindi, anche se la serie è spagnola, bam, ecco che ha un impianto molto all'americana. E questo posso anche capire, era così anche nella casa di carta, soprattutto dalla terza parte in poi, ovviamente. E quindi, il lato tecnico è blandino, però niente di troppo disastroso. Qualche scavalcamento di campo, qualche scena montata molto con il culo, però ero abituato e quindi non ci ho fatto troppo caso. No, il problema è proprio la sceneggiatura e anche la caratterizzazione dei personaggi. Allora, a parte il fatto che a quanto pare in Francia sanno tutti lo spagnolo perfettamente, loro vanno a parlare con un francese, guarda caso, aveva la bisnonna che era spagnola e si ricordava lo spagnolo, vanno in un bar, ah, spagnolo, mi piace, ho imparato lo spagnolo perché sì. Cioè, capisco che la serie è spagnola e che non volevano fare casini con la lingua, non l'ambientarla a Parigi, perché è tutta ambientata a Parigi, no? Sono in questo hotel davanti alla casa del proprietario della casa d'aste così lo possono spiare e anche lì io ero abbastanza disorientato, ma perché parlano tutti spagnolo? Sembra dei cinepanettoni che possono andare in qualunque luogo del mondo ma troveranno sempre quello che parla italiano perfetto e che capisce il romanesco soprattutto, ok? Cioè, sono personaggi dei cinepanettoni che parlano sempre con un accento romano molto marcato, e quando parlano tipo vanno a Miami trovano il poliziotto di Miami che non solo capisce l'italiano ma capisce anche le sfumature del romanesco questa cosa è fantastica stessa cosa qui non ammientarla a Parigi se c'è il problema della lingua ogni tanto si parlano francesi ma poco, pochissimo ci manca solo che ogni tanto non lo parlassero cazzo sono in Francia ma vabbè il fatto è che a parte che già la rapina secondo me parte male perché loro hanno questo piano che è un po' la parodia di ciò che abbiamo visto nella casa di carta vogliono fare questo tunnel sotto questa chiesa dicendo al parroco che forse hanno scoperto che sotto la chiesa c'è la chiesa più antica di Parigi che è una cosa che ingolosisce questo parroco che li lascia scavare in realtà loro vogliono semplicemente infiltrarsi nel cavo della casa d'aste va bene ci sta è una cosa abbastanza classica non fosse che come scusa invecchiano questo calice facendolo sembrare un calice di migliaia di secoli migliaia di anni prima quel cazzo che è in modo che il prete ci creda ora a un certo punto questo povero Cristo di prete prende il calice dice di volerlo portare mi pare incuria comunque a farlo analizzare da questo cardinale e loro vanno in panico e dicono no il prete vuole andare a verificare scusate ma perdonatemi cioè in questo vostro piano geniale non vi era venuto in mente che magari il parroco non si facesse abbindolare dicendo ah si c'è un calice antico faccio fare gli scavi e magari vuole verificare prima cioè è una falla del piano che è roba proprio da 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 persone che mi stupisco che arrivino a sapere la tabellina del 4 ma cioè mi fai un piano super preciso minuzioso e l'intoppo che non hai previsto è che il prete possa voler far analizzare il calice ma siete stupidi Cristo siete degli idioti di merda cioè scusatemi eh ma che personaggi sono io come faccio a pensare che questi siano dei grandi rapinatori se mi fai un errore del genere oltretutto la cosa divertente è che spendono un'intera puntata a far vedere Cameron e Roy che cercano di andare a recuperare il calice prendono il prete gli prendono la borsa in moto lo trascinano per tipo 20 metri tipo 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 Achille con Ettore ok e lui era anche scortato da questi ex carcerati che stanno con lui nella chiesa perché è una comunità e quindi c'è tutta questa scena tipo stealth con loro che scappano da questi energumeni che li cercano nel parcheggio e che hanno staccato la manichetta dell'idrante e l'accetta e gli fanno il culo perché gli sparano l'acqua con l'idrante e li buttano anche giù e io gli dicevo ma che cazzo sto guardando tutto questo perché questi incoglioniti dementi non avevano messo in conto che il parroco avrebbe voluto analizzare il cazzo di calice e non solo mentre c'è tutta questa crisi Berlino si è reso conto spiando nella casa di Polignac il padrone della casa d'aste che sua moglie è un pezzo di Bernarda e lui allora si innamora ecco qui abbiamo un problema Berlino è sempre stato reso come una persona romantica nonostante sia un pazzo stupratore schifoso comunque ce lo presenta con una persona che nel suo passato era romantica quando lo vediamo nelle prime due parti della casa di carta è così perché sta morendo e quindi è incazzato è distrutto inizia a diventare cattivo sul serio ma prima sappiamo che lui era un romanticone prima di diventare così era un romanticone quindi il fatto che lui si innamori può anche starci il problema è che lui parla sempre di fiducia di non mandare a puttane tutto e che cosa succede quando ci sono i momenti di crisi lui è troppo impegnato a bombarsi la moglie di Polignac e a farsi coinvolgere in questo triangolo strano perché a un certo punto Camille questa questa donna questa donna messicana se non sbaglio che però vive col marito in Francia infatti lei parla spagnolo perfettamente perché è ispanica guarda caso pensate che culo e vediamo che lei in realtà è innamorata di Berlino e Berlino si dimentica quasi completamente del colpo cioè non gliene frega un cazzo a un certo punto del colpo quello che importa è bombarsi la tizia e poterla magari anche sposare perché lui all'inizio della sede si è appena separato per la terza volta quindi è in cerca dell'amore e a me il personaggio di Camille irrita profondamente perché se c'è una cosa nella vita che io non tollero sono le persone che ti fanno pesare che loro devono vivere sempre al limite loro devono prendere a morsi la vita prendetemi a morsi i coglioni ok no io lo dico proprio lo dico con con grande sincerità nel senso che se tu sei così tu generico va benissimo non ci sono problemi ognuno la vita la vive come gli pare ma c'è proprio io non sopporto questo io la notte esco e vado a ballare cioè l'altra sera pensa sono uscita sono andata in un bar perché io sono matta capito io la vita la prendo a morsi che è l'equivalente dei tizi che si vantano di aver fatto la spaghettata di mezzanotte perché sono matti e imprevedibili no è quella roba lì io quando c'è lei che parla a lui perché lui dice io non voglio un'avventura e gli dice sai io sono una che la vita la prenda a morsi l'altra sera non riuscivo a dormire allora ho preso il cane mi sono truccata sono uscita sei una grande cazzo cioè ma chi ma chi mai avrebbe potuto pensare che esistesse una persona che è così matta le due di notte si alza e va in un bar cazzo cioè oh ragazzi sprangate gli usci perché se Camila è in giro non si sa cosa può succedere ma che personaggio è e Berlino è anche peggio Berlino la seconda pure ed è ancora più idiota quello che fa lui perché lui io la vita prendo a morsi c'è questa scena di lui che pensa di sapere tutto di lei di aver capito e l'accompagna all'opera ma non aveva capito che in realtà non era l'opera ma era un locale che si chiama tipo opera club e quindi lui va tutto vestito in smoking in questo posto dove c'è un concerto punk underground non lo so e tutte queste scene mi facevano pensare sì ma non c'era una rapina in corso e nel frattempo abbiamo Keila l'hacker finta brutta che si innamora perdutamente di Bruce che è questo appunto palestratone che ci tiene a precisare che quando lui è piena di uscire di casa lui si cosparge d'olio e c'è lei che però non ha un'infatuazione normale no lei ha un'infatuazione del tipo che lui a un certo punto si toglie l'olio in camera sua perché deve farsi mettere gli elettrodi perché lei fa la programmazione della realtà virtuale e quando lui toglie l'asciugamane lo prende e lo tiene come un trofeo e lo annusa tipo quelli che rubano dagli stendi panni le mutande delle signore e se le annusano negli angoli delle strade queste robe qui io quando ho visto questa cosa ho detto ma ce n'è uno normale in sta serie ma ce ne sarà una persona normale ci sarà in sta serie di merda dico io no per dire no sono tutti fusi di testa abbiamo poi Cameron eroi che sembrano quasi normali non fosse che quando poi la rapina va a segno perché loro riescono a rubare tutto e tra l'altro mentre stanno rubando Damian e Berlino si incazzano perché Damian dice tu hai quasi mandato molto il colpo per andare dietro alla fregna sei uno stronzo perché lui ha appena scoperto che la moglie lo ha lasciato e io dico capisco la questione personale e tutto ma state rubando i gioielli nel cavo con il proprietario della casa d'aste dall'altra parte del muro del cavo e vi mettete a fare casino siete degli ioti io quando vedo queste cose mi incazzo perché penso ma a me perché deve interessare di una rapina fatta da questi quattro scappati di casa che è un miracolo che siano riusciti a portare a termine questo furto io vi giuro quando sono arrivato alla fine della serie ho pensato ma questi come hanno fatto a farla franca cioè obiettivamente come hanno fatto ma tra l'altro hanno dovrebbero avere teoricamente anche degli identikit fatti bene vabbè non importa sta rifatto che poco dopo il colpo giustamente il piano è ce ne stiamo tutti in camera a pulire per bene per non lasciare tracce e poi il giorno dopo fuori dai coglioni ovviamente però non ce la fanno perché Bruce e Kayla devono andare alla motorizzazione in questo negozio in questo noleggio auto dove hanno il passaporto di Bruce con la sua foto perché la moto l'avevano distrutta quando avevano cercato di recuperare il calice dal prete e anche qui vabbè tra l'altro dalla cosa del calice del prete a quando loro devono andare alla motorizzazione passano giorni perché dicono che hanno una settimana per gli scavi per cui possibile che in quella settimana nessuno abbia pensato di andare a riprendersi in qualche modo il passaporto di Bruce con la sua foto perché il passaporto è falso ma la foto è la sua cioè come Cristo si può pensare anche solo per sbaglio che questa cosa abbia senso non ha senso cazzo cioè ma questi sfuggono le cose più elementari basiare io non sono un rapinatore non lo saprò e non lo sarò mai ma se mai dovessi farle fare una cosa del genere sono sicuro che roba come queste mi verrebbero in mente e non sono di certo un esperto quindi com'è possibile che questi criminali esperti della mia fungia non sia venuto in mente nulla di tutto questo non ha senso cazzo non ha senso e quindi accade che loro vanno ed è un casino perché tipo tirano fuori la pistola fanno una mezza sparatoria perché ovviamente vanno lì entrano e non si accorgono che c'è il poker con le guardie di sicurezza nella stanza sotto ma una roba capite una serie di sfighe che boh la stessa sera Roy e Cameron vanno a festeggiare con Cameron che si è portata dietro uno dei gioielli della rapina se lo porta dietro così ma sì mi sembrava carino indossarlo e io ho pensato beh cosa poteva dare storto mettendo nella banda una persona con evidenti problemi mentali che non è che ci sia qualcosa di male nell'avere problemi mentali ci mancherebbe altro magari però se una persona ha problemi mentali eviti di farle fare cose come non lo so una rapina no queste cose che magari richiedono un minimo di no di connessione con la realtà cose di questo tipo e niente vanno a fare una gara rubano una macchina sportiva e vanno a fare una gara e qua c'è il momento Fast and Furious che guardate cioè per me poche cose mi fanno poche cose mi fanno venire l'allergia più della casa di carte di Fast and Furious cioè quindi immaginatevi cosa deve essere stato per me assistere a un momento che è la fusione tra la casa di carta e Fast and Furious cioè è un po' come se Godzilla Frankenstein King Kong e Ghidorah facessero un figlio per quanto mi riguarda una potenza gigantesca mostruosa in scena quindi io guardando questa scena ho pensato ma perché sono andati a fare una gara peraltro con dietro il gioiello da milioni di dollari non ha senso ma non ha un cazzo di senso la gara tra l'altro funziona così gli uomini guidano e al tetto le donne stanno in piedi con dei pattini fissati con delle viti e delle redini e fanno questa gara ma Cameron inizia a urlare a Roy ti prego smettila smettila perché ha ricevuto una chiamata del suo ex che è ciò che l'ha fatta impazzire e scopriamo che lei a 15 anni stava con un cantante di questa band che perché non sia stato indagato per ma non so molestie su minori in passato è un mistero sta di fatto che lei è impazzita ad amore per lui era diventata gelosa e alla fine ha iniziato a fare cazzate ha dato fuoco a tutta la roba che lui le aveva lasciato però ha dato fuoco anche alla casa quindi l'hanno messa in un istituto ed è per quello che lei era in un istituto di igiene mentale sostanzialmente aveva avuto un brutto esaurimento nervoso non era molto equilibrata in quel momento non era uscita e quindi succede che interrompono la gara avevano scommesso la macchina perdono la macchina che però ha dentro il gioiello che loro non hanno visto che era caduto cioè questi la sera dopo il super furto sono andati a fare una gara che di per sé non ha senso perché spiegatemi che cazzo di senso ha una gara dove ci sono delle persone sul tettuccio con le redini e fissate con le viti non ha senso cioè io quando l'ho visto ho detto ma che cazzo è sta roba cioè Fast and Furious paradossalmente ha più senso di questa roba qui veramente quindi e poi prendono prendono l'aeroplano cioè lui che fa finta di sta per volare per mettere un po' di adrenalina a Cameron cioè una roba insensata e alla fine tutti il giorno dopo devono andarsene perché il piano è che ritornino in Spagna in vari modi ovviamente Berlino siccome è troppo schiavo della fica non parte e sta lì a mettere in pericolo tutti e la cosa bella è che Damian Cameron eroi vanno in camper fingendo di essere un'allegra famiglia e loro hanno tutti delle latte tipo quelle dei biscotti di burro che di solito però ci sono dentro agua e filo ok con dentro i gioielli benissimo quando sono in strada bloccano tutte le strade e loro vanno in panna cosa facciamo cosa facciamo dopo mostreranno di avere una certa preparazione su come fare nel caso in cui arrivasse la polizia benissimo perché allora nel momento in cui vedono il posto di blocco vanno nel panico cioè non pensavano che a un certo punto avrebbero bloccato le strade e perché per questo sono in panico ma per ciò che accade dopo sono iper organizzati non ha senso è scritta in una maniera che io non riesco a comprendere e chi cazzo l'ha scritta sta serie senza contare che siccome è la casa di carta bisognava inserire dei personaggi della casa di carta a caso quindi poco dopo il furto l'ha il commissario francese che questa tizia non mi ricordo come si chiama Ravel una cosa del genere chiama Alithia Serra che chi conosce la casa di carta si ricorderà sicuramente la quale a un certo punto chiama Raquel Murillo che è l'isbona della casa di carta e fanno questo super team di poliziotte tutte donne perché sì perché oggi oggigiorno va il girl power e quindi mettiamoci il girl power senza però dargli una direzione sensata senza che abbia un senso no mettiamo questa squadra di tre personaggi due dei quali vengono dalla serie madre senza un reale motivo e siamo a posto con questa scena tutta figa con Murillo che quando si deve concentrare si lega i capelli come diremmo si fa sul serio e io ero lì che pensavo vabbè e la cosa bella è che questi personaggi non hanno un reale senso c'è anche tutte le scene con la sierra non lo so non mi hanno non mi hanno convinto sembrava lì solo perché era la sierra della casa di carta non fa qualcosa di concreto se ci pensate e vabbè poi Bruce e Kayla che ovviamente c'ha tra loro una tensione sessuale incredibile sono lì che discutono intanto loro dovevano andare in Spagna passando dei monti montando la tenda per dormire eccetera ma lei viene morsa da una vipera lui la porta in ospedale ovviamente li beccano deve sequestrare due poliziotti li porta al molo e se ne vanno con le barchette delle mie balle ma quello che mi fa ridere è che anche loro sono lì che pensano che devono trombare e va bene stessa cosa Roy poi Roy Damian e Cameron sono ovviamente il peggio sono il peggio del peggio perché c'è proprio una roba che io vi giuro non ho compreso che è Damian che capisce che la moglie effettivamente lo ha tradito quindi lo ha mollato perché lo ha tradito e allora lui che cosa fa si tromba questa tizia nel campeggio che lo ha sentito parlare urlando in bagno con la moglie dopo che gli aveva detto che la moglie era morta perché la copertura che stavano usando è che lui era un vedovo con i figli che erano Cameron eroi ovviamente che non sono i suoi figli ma per la copertura sì e quindi un altro tizio che per la figa rischia di mandare tutto a monte quando poi si rende conto che Berlino è ancora a Parigi lui torna a Parigi in moto per andare a prenderlo e Berlino alla fine ha incastrato ovviamente il marito di Camille per far sembrare che lui avesse rubato i gioielli ma Camille non è molto convinta allora c'è questa scena surreale di lui che dà i soldi per l'avvocato lei lo porta a parlare in prigione col marito c'è questa sorta di triangolo con tutti e tre consapevoli che ridono io lì che cazzo è sta roba e quello che mi fa veramente specie è il fatto che a un certo punto Camille lo manda al diavolo lui va in hotel arriva Damian e i due si mettono a cantare felicità di Albano davanti a questi sposini nella sala ricevimenti dell'hotel e si mettono a fare questo concertino mentre Camille sospettando di lui perché perché l'amica gli ha detto che forse è l'amante il problema succede che vediamo lei che va nella stanza scopre tutto perché ovviamente Berlino in quei giorni non è che aveva tolto il plastico della casa d'aste tolto i piani c'erano addirittura le foto dei gioielli ma poi io dico ma non è sicuro tenere tutta quella roba in una camera d'albergo tu non sai cosa può succedere effettivamente quindi anche qui dimostrano di non avere una grande insomma dimestichezza ma fa veramente ridere il fatto che non si che loro con una con una momento di tensione del genere tutto il paese che ricerca si mettano a cantare al matrimonio degli sconosciuti in hotel ma come ma io dico ma come cazzo fai non è normale che tu pensi di inserire in sceneggiatura due rapinatori che sono in fuga dalla legge che si mettono a fare il concertino in un luogo pubblico ragazzi non ha senso scusate cioè per me va oltre la mia capacità di sospendere l'incredulità è per questo che quando io sento persone dire no Berlino è scritta benissimo regà non è scritta benissimo questa non è un'opinione può piacervi e va bene ma una roba del genere in sceneggiatura non è una buona scrittura significa non avere idea di che cazzo stai facendo significa sappiamo che a molta gente piace questa merda e gli diamo questa merda e ci sta va benissimo apprezzare la merda non è un problema ma non facciamola non facciamo che si cerchi di far passare per cioccolato la merda rimane merda la cioccolata è cioccolata va benissimo se uno dice a me sta roba piace ma ammettiamo che è una merda scusatemi perché una roba del genere non ha senso non è proprio una scrittura che può essere anche solo sensata con Cameron Heroic che nel frattempo mentre questi qui sono lì che cantano e ballano come due deficienti Cameron Heroic sono abbrancati dalla polizia e loro avevano già preparato i manichini che con il binario che tipo faceva uscire la manina col megafono collegata a una radiolina che loro avevano mentre nel frattempo erano scappati nelle fogne ovviamente poi la polizia li scopre vanno nel tunnel che hanno preso li cercano ma loro in realtà si sono già messi sul telo cerato di un camion diretto verso la Spagna e alla fine anche Damian e Berlino per motivi che non capisco se ne vanno vanno qui in quella che a me sembra effettivamente la villa dove fanno il piano della casa di carta a me sembra la stessa vabbè sta di fatto che poi Camille mesi dopo ritrova Berlino e lo vuole ricattare dicendo vogliamo una parte del bottino perché l'amica che dice l'amica tra l'altro fantastica perché no dobbiamo chiedere ma dobbiamo chi ma tu chi cazzo sei esattamente spiegami perché tu dovresti avere diritto a dei soldi che non ti spettano casomai è la tua amica santo cielo che deve avere un risarcimento morale perché poi lei scopre che nella cassaforte il marito teneva delle foto che provavano l'esistenza di una seconda famiglia e di un figlio che lui aveva avuto all'insaputa di lei nonostante di averse detto che lui di figli non ne voleva quindi lei si sente feritissima e l'amica no questi due ti hanno preso per il culo uno per un motivo uno per un altro tu adesso adesso noi chiediamo no chiediamo al plurale no chi cazzo ti conosce al massimo la tua amica chiede al singolare no al plurale c'è il ricattone solo che ovviamente Camille va da lui per ricattarlo e trombano perché è giusto così e Berlino scopre che volevano ricattare e dice comunque ragazze ve li do i soldi non preoccupate ve li do il 40% e dice ma perché ma perché gli dai dei soldi cioè in tutto poi il grande amore di cui parlavano Camille sembra che adesso sia libera dal marito lui ti ha dato i soldi se è ancora innamorato di lui perché non si mettono assieme no la serie finisce con Damian e Berlino che parlano in questa arena dove c'è un torero che si allerea e dicono dobbiamo tornare a rubare subito dopo che Murillo la francese e la sierra constatano che non hanno niente per beccarli quando li hanno visti in 180 hanno degli identikit assolutamente e totalmente corrispondenti alla realtà però sembra che non abbiano elementi per prendere e questi se ne vanno in giro per la Spagna tranquilli senza che nessuno li cerchi e li riconosca ma mi spiegate com'è possibile si sono fatti vedere hanno fatto un cazzo di concerto poi scusatemi scusatemi mi state dicendo che nell'hotel non c'erano le telecamere nella sala dove c'erano gli sposi perché le staccano dopo per scappare ma loro hanno fatto un concertino dei miei coglioni voglio dire nella sala nella sala ricevimenti penso che le telecamere le avrai se le hai nei corridoi perché non nella sala ricevimenti questi stavano cantando hanno fatto mezz'ora a cantare felicità di Albano e non hai dei cazzo di filmati ma dai ma per favore ma poi scusate perdonatemi teoricamente le altre volte che questi erano andati nel corridoio non c'erano i filmati di sicurezza perché Keila a un certo punto stacca in remoto le telecamere ma non è che cancella i file ok quindi mi fa ridere il fatto che questi dicono eh li abbiamo persi raga ma li hanno visti tutti ma che cazzo hai perso come fai a dire li abbiamo persi questi vanno in giro in Spagna tranquilli e li avete persi ma chi è che vi ha addestrati topo gigio veramente per citare cioè raga io io posso capire tante cose posso capire che uno dice sì però il mio guilty pleasure va bene però veramente a me fa specie che sede come questa sono al primo posto vengono viste un sacco e poi cancellano i prodotti che veramente sono interessanti cioè a me disturba che roba come questa venga seguita così tanto e che venga così tanto zannata poi dipende dalla bolla ad esempio se io parlo male di Berlino dando delle argomentazioni su Instagram c'è tanta gente che è d'accordo lo faccio su TikTok e molta gente è in disaccordo perché è il target credo che sia proprio una serie che piace ai giovanissimi o a chi ha superato i 50 anni che è abituato a vedere cine fiction e quindi una roba del genere per chi è abituato a vedere certe cacate sembra rivoluzionarissima ma per una persona che si guarda tante serie che conosce un po' al mondo seriale credo che possa essere più che evidente che questa serie è una puttanata senza alcun tipo di appello uno spin off prequel che non fa tornare un cazzo con la casa di carta che magnifica e glorifica un personaggio che in realtà è negativissimo però questo era già stato fatto nelle parti successive delle prime due della casa di carta quindi lasciamolo passare anche se non sarebbe proprio da far passare una serie con dei rapinatori che non calcolano le cose più semplici e che soprattutto dedicano più tempo a cercare di trombare piuttosto che a eseguire un colpo che se dovesse fallire gli costerebbe anni di galera tutto questo non ha il benché minimo senso colonna sonora come al solito piena di brani di terze parti che vogliono diventare iconici sul momento come il felicità di Albano sta già diventando un meme ci sta ok lo capisco però per il resto ragazzi per me questa è una serie terribile qualcuno può dire beh non è così brutta no ragazzi per me invece questa è proprio la quintessenza della merda ma per il semplice fatto che è una serie che è scritta nella maniera più sprossimativa possibile perché vogliono scriverla così cioè è proprio il portare ad un livello successivo le cacate e farle passare come qualcosa di anche innovativo cosa che non è cioè a me è questo che la fastidio è il mainstream fatto male è proprio il mainstream che vuole dare alle persone la solita merda perché hanno capito che questa merda piace non è che dicono ok facciamo qualcosa di leggermente diverso cerchiamo di fare di meglio la casa di carta no la casa di carta è piena di stronzate ma quelle stronzate però ha fatto successo allora teniamo quelle stronzate non è che si pensa a dare al pubblico qualcosa di meglio no 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 diamogli la solita merda lì e a me questo tipo di ragionamento non piace lo odio lo detesto è una serie in cui niente di quello che succede ha senso poi io a un certo punto ho continuato a guardarla in binge perché volevo sapere dove andavo a parare ma come per la casa di carta non è che a me la casa di carta piacesse non è neanche un guilty pleasure me la scoppiavo subito perché dicevo vediamo fino a che punto si spingono e soprattutto voglio levarmi dalle palle il prima possibile con Berlino ho fatto anche fatica perché per me è anche noiosa all'inizio è noiosissima cioè il problema è quello il ritmo cioè vedere vedere da dato più spazio a loro che cercano di trombarsi questo o quell'altro e alle storie d'amore senza senso piuttosto che alle parti di rapina che dovrebbero essere quelle più interessanti a me dava fastidio ed era nettamente lento il ritmo era veramente come se proprio ormai non ci provassero neanche più ecco quindi non è neanche coinvolgente come la casa di carta volendo perché la casa di carta per quanto mi faccia schifo era coinvolgente nel senso che non mi annoiava questa mi annoia pure poi andando avanti un po' di meno però comunque se non mi annoia mi fa schifo cioè quindi delle due l'una per cui non lo so ragazzi io ripeto se vi piace ci sta per l'amor del cielo però non cerchiamo di farla passare come una grande serie perché a chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le serie tv pare chiaro subito che comunque piaccia o meno la serie è fatta male e penso che su questo non ci sia granché da discutere quindi questo è quello che pensavo circa Berlino o diciamo che ho fatto questo video più sproloquio chiacchierata perché non è che ci fosse granché da dire almeno che non la si prendesse per il culo per i motivi giusti secondo me quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate poi sicuramente magari qualche cazzata me la sono anche persa per strada perché elencarle tutte è praticamente impossibile però davvero io non ce la posso fare cioè io sul serio i personaggi sono terrificanti non ce n'è uno caratterizzato bene poi tra l'altro bello che hanno fatto le coppie con fighi e fighe questa cosa è meravigliosa cioè in questa serie sono tutti belli sono tutti affascinanti non c'è nessuno con non so la gobba un piede equino no sono tutti belli fantastici meravigliosi fighi in modo che ci sia sempre attrazione sessuale reciproca sempre perché altrimenti non sarebbe un prodotto legato alla casa di carta quindi sicuramente di questa perché questa è una miniserie ma in realtà secondo me faranno altre stagioni perché sta andando benissimo è andata benissimo non fanno morire la gallina le uova d'oro quindi è bollata come miniserie ma secondo me arriveranno altre stagioni e il finale è aperto appunto per quello dobbiamo tornare a rubare non vedo l'ora di sapere quale altra grande rapina fatta col culo mentre cercano di fottersi a vicenda faranno guarda sono qui che faremo quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi io vi abbraccio vi ringrazio grazie per avermi seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo mui vlog ciao a tutti grazie a tutti